Gentili telespettatori, buona giornata. Voi sapete, lo vedete tra gli amici sul lavoro, tra i conoscenti, che quando si vuole andare contro una persona e non si hanno gli argomenti, spesso li si inventano, o si dicono bugie, oppure delle cose completamente senza senso. Se il fine è attaccare quella persona, si arriva a dire delle cose che non hanno nessun senso. Parliamo della Murgia, che assieme alla Belloni, Belloni si chiama, se non sbaglio sì, Paola Belloni, la fidanzata della Schlein, vanno al processo Saviano, che Saviano chiama processo Meloni. Già questo vi deve far capire tutto. Se si apre il processo Saviano, contro Saviano, e lui chiama il processo Meloni, senza dire il suo nome, già avete capito il personaggio. Il personaggio che la Belloni dice è il più grande intellettuale che abbiamo in Italia. Beh, è abbastanza opinabile il fatto che Saviano sia il più grande intellettuale. Come vi dicevo ieri, se questo grande intellettuale ti dice la bugia, per esempio, che se il governo ferma le ONG aumentano le partenze, che è una cosa completamente inventata, senza logica, e viene solo detta per dar aria alla bocca, capite che una persona che dice una bugia per attaccare un'altra, per definizione non può essere il più grande intellettuale che ci sia in Italia, ma neanche intellettuale, perché se tu devi ricorrere alla bugia per attaccare una persona e non hai onestà intellettuale, non puoi essere il più grande intellettuale se non hai onestà intellettuale, perché l'onestà intellettuale è alla base di un grande intellettuale. Il grande intellettuale riesce a vedere le cose come stanno, indipendentemente da simpatie, antipatie, indipendentemente da che sia di destra o di sinistra. Il grande intellettuale ha la capacità di riuscire a vedere le cose come sono e a dire le cose come sono, senza nessun tipo di appartenenza o schieramento. Quindi andare al processo Saviano, che lui chiama processo Meloni, per sostenere come scorta culturale il più grande intellettuale che abbiamo, insomma, comincio a farmi l'idea che la fidanzata della Schlein sia molto simile alla Schlein. Io credo che Belloni e Schlein siano due persone molto simili. Così, da queste prime dichiarazioni, il più grande intellettuale che abbiamo in Italia, vado al processo per sostenere uno che ha calunniato, diffamato e insultato una persona, insomma, uno può dire sì, sei un mio amico, ti conosco da tempo, stimo quello che scrivi, però, insomma, avresti dovuto evitare di dire parolacce, offendere, insultare, calunniare, diffamare, insomma, come dire, prossima volta sveglia, la critica è una cosa, gli insulti sono un'altra. Ecco, la capacità poi di un grande intellettuale qual è? È quella di dire le cose senza parolacce. Cioè, un grande intellettuale non ha bisogno dell'offesa, del turpiloquio per far valere le proprie idee. Un grande intellettuale non ha bisogno di diffamare, cioè, cose false, o calunniare additare una persona come quella che ha commesso un crimine ed è falso. Quindi, cara Paola Belloni, visto che lei ha voluto fare queste uscite pubbliche, ha voluto entrare come personaggio noto, perché essendo la fidanzata della Cappa del PD diventa un personaggio noto e diventando un personaggio noto deve comunque essere soggetta anche lei alla critica del pubblico. e, insomma, immaginare Saviano, il più grande intellettuale, una persona che ha bisogno per far valere le proprie idee su quelle degli altri, di dire parolacce, di diffamare, di calunniare, questo proprio sono delle cose che allontanano dall'intellettualità o dalla cultura, perché, torniamo al punto, che cos'è che dice la murgia su questo fatto. Dice così, sentite e ditemi se è una roba che ha un senso. Dice così, appena sente la parola cultura, questa destra mette mano alla querela. Allora, comprendete che questa frase, ve la ripeto, appena sente la parola cultura, questa destra mette mano alla querela. è una frase senza nessun senso, senza capo né coda, fuori contesto che non vuol dire assolutamente nulla. Perché la murgia non commenta il processo? Perché parla di cose che non centrano niente con il processo? O meglio, lei dice quando questi sentono la parola cultura, denunciano. Eh? ricordiamo che la denuncia della Meloni risale al 2020 quando aveva il 4% e quando non si sarebbe poi mai neanche immaginata di diventare premier se hai il 4% ed era stata diffabata, calunniata e offesa non da premier. E quindi non è che la Meloni ha sentito le parole di grande cultura di Saviano. La Meloni come 800.000 persone che hanno visto quella trasmissione da Formigli hanno sentito parolacce pesanti, diffamazione, cioè bugie e calunnie. Dire che la Meloni ha di fatto lei e Salvini contribuito a quello che sono le morti in mare. Quindi li ha additati come dei criminali o dei fiancheggiatori di crimini e quella si chiama calunnia. Deciderà poi il giudice se la possiamo definire calunnia o solo diffamazione o solo insulti. Decideranno i giudici e pertanto cultura con Saviano sinceramente uno che si comporta dicendo parolacce, diffamando e calunniando la parola cultura proprio non c'è, non esiste proprio. Quindi cara come si chiama Murgia quando la destra sente la parola cultura mette mano alle querele forse è meglio neanche rispondere alle interviste perché fare delle figure così chi è che può dar credito a una persona che dice una cosa del genere? chi? Solo Saviano? Grazie a tutti e arrivederci a presto.